Ciao, allora oggi vi farò vedere alcune cose che ho preso al Disney Store alla scorsa settimana, in edicola, poi a un mercatino dell'usato, di quelli non negozio, parlo di quelli tipo in strada, insomma quelli che fanno una volta al mese, che qui a 30 siamo a mercatino dei Gaudenti, lo fanno due volte al mese, e praticamente lo fanno al secondo sabato del mese e il quarto, in due posti differenti, e ogni tanto trovo qualcosina di carino, comunque, un po' di cose da edicola, eccetera, eccetera, e poi una cosa che ho preso da Primark, che però vi farò solo vedere, perché quella lì è un calendario dell'avvento, adesso cominciamo con quello, che così vi faccio vedere, ed è questo, non ci sta neanche... Allora, aspettate, ecco, così, è un calendario dell'avvento di Stationery, 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 non lo so come si dice, vabbè, insomma, di roba di cancelleria, questo l'ho trovato da Primark, e l'ho pagato a 12 euro, e poi, vabbè, qua si vede più o meno quello che si può trovare, è fatto così, questo, ah, ok, scontrino di Primark, bene, 12 euro, ecco, è carino, poi penso che questo qui ne aprirò uno al giorno, da dicembre in poi, e, oppure potrei aprirlo adesso, non lo so, non lo so, allora, ditemi voi, io vi lascio qua, qua sopra, qui, una card, oppure no, vi metto, anzi no, vi metto, che cos'è, non usiamo quella sezione, vi metto un sondaggio nella sezione community di, aspetta che abbasso un attimo, ecco, perfetto, nella sezione community del, del canale, per, per vedere, faccio un sondaggio per vedere se vi interessa vederlo subito, oppure se, come si dice, non mi viene, oppure se lo apro giorno per giorno a dicembre, però, metto le foto su Instagram, farò così, sì, ok, vabbè, allora, intanto, comunque, lo lascio qui e non lo tocco, poi, poi vi faccio vedere un'altra cosa, che ho trovato in edicola, che è questo qua, finalmente l'ho trovato, che ho detto, lo faccio vedere in questo video, perché, se no, ehm, questo l'ho trovato sempre a Verona, che sto qui aveva, eh, vabbè, anche bloccato, ah, perché, ecco, Allora, c'è l'orca, e poi c'è questo qui, bianco, nero e grigio, credo, sì, infatti, vedete, e il gattino, che carino, carinissimo, ecco, mettiamolo qua da parte, poi, cosa vi posso far vedere, vi faccio vedere, no, quello lo lascio per ultimo, perché quello lì è veramente speciale, quello che ho trovato al mercatino, allora, vi faccio vedere questo, questo l'ho preso, beh, ovviamente, al Disney Store, o Shop Disney, ecco qua, ecco qua, guardate, ah, ah, finalmente, fanno qualcosa, di, di, esmeralda, bellissima, e questa è gialli, la caprita, che carina, che discalzi, la gonna, col fatto che quest'anno hanno fatto uscire, eh, le limited edition, di, esmeralda, e anche Megara, la faranno uscire, eh, la prossima settimana, non so però se la prenderò, perché costano 120 euro, è un po' tanto, e non ho tanto spazio, per le limited, però intanto, stanno facendo uscire, anche un po' di altri prodotti, tra cui, anche questo qua, è bellissimo, c'era anche Megara, ma non l'ho presa, perché, eh, non era, disegnata così bene, insomma, non era dipinta così bene, aveva degli occhi un po' spiritati, quindi ho detto, vabbè, lasciamo perdere, questa invece, questa è stupenda, cioè, e l'ho pagata, 17 euro, vabbè, insomma, come tutti, gli ornamenti, da sketchbook, molto carina, poi, poi ho preso, e finalmente l'ho trovata, questa, cioè, parliamone, allora, io questa qui, l'avevo vista sul canale, di Manuel, e non Toys Expression, Manuel, vabbè, c'è il canale, si chiama 8bit, ve lo metto magari, qua sotto, linkato, che è un canale, dove, dove fa, recensioni, di varie cose, tra cui anche, quelle del Disney Store, perché lui lavora, al Disney Store a Roma, fantastico, e l'avevo fatto vedere, mesi fa, questa tazza, e io ho detto, no, bellissima, devo prenderla, però, era finita, poi però, appunto, quando sono andata, mercoledì, sono andata appunto, a Verona, e, la mia amica, era andata lì, con la mia amica, e mi fa, guarda, guarda, che bella questa tazza, io, oh mio Dio, dove l'hai presa? Allora, c'era questa, e poi c'era un'altra, che adesso vi farò vedere, questa qui, questa è quella con le Villains, vedete, c'ha il, manico fatto così, cromato, tipo, qua c'è Malefica, Ursula, e Grimilde, e poi sotto è fatta così, l'ho pagata, 16 euro, vabbè, insomma, però, ci sta, ci sta, e poi c'è questa qui, che secondo me, tra le due, non lo so, sono belle tutte le due, però, questa, questa, è, wow, eccola qua, oh mio Dio, bellissimo, eccola qua, questa è un'altra, che ho visto sempre, sul suo canale, e, e quando l'ho vista, che anche lui, ha detto, ah sì, no, perché è finita, blablabla, comunque, è a forma di, di torre, con tanto di torre, laterale, che fa da manico, fantastico, qui, c'è una finestra, con, l'immagine di, Malefica Drago, e da questa, invece, c'è, una porta, cioè, è, wow, con Malefica, normale, e, e, sempre, 16 euro, l'ho pagata, bene, ora, spostiamo, questo, così, anche questo, ecco, e ora, vi faccio vedere, quello che, odio, quello che ho trovato, al mercatino, che, cioè, ehm, bene, non si vede niente, ok, perfetto, tiro un attimo, in su, ecco, allora, ehm, praticamente, l'ho trovato, nel primo banchetto, aspettate che sposto questi qua, perché, non vorrei mai, ecco, è un po' rovinato, ma l'ho pagato, tre euro, tre euro, allora, ehm, il primo banchetto, che ho visto, quando l'ho visto, ho detto, no, scusa, questo qui deve esser mio, non mi importa quanto costa, perché, cioè, parliamone, è, è bellissimo, è un'edizione, della Mondadori, e quando vedrete di che anno, cioè, tipo, io quando ho visto l'anno, ero lì, ma davvero, c'è, 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 qua è, Walt Disney presenta, Biancaneve e sette nani, qua c'è, c'è, guardate, guardate la, la, la pagina, c'è la pagina, insomma, il, la copertina, che è una copertina, rigida nera, con sopra questo foglio, che infatti, è un po' rovinato, perché qui, però, appena vedrete l'anno, direte, cioè, è rovinato, però, non è tantissimo rovinato, poi dentro, è fatto così, vedete, che qui c'è, qua c'è, una riparazione, infatti, poi qua, attenzione, perché, qua è da riparare, qua mi sa che dovrò, vedere di, riparare, e poi anche, cancellare questa scritta qui, preti, che, aggiustarlo, preti, da aggiustarlo, vabbè, insomma, biancaneve, sette nani, con la scritta, proprio come è, nel film, storia completa, illustrazione di Walt Disney, edizione Walt Disney, Mondadori, Milano, e qui c'è, bellissimo la, cos'è questo, non me l'ho accorta, qua, non so se si riesce a vedere, no, aspettate, che, vedete, c'è questo, tembro, società italiana, autori, editori, ah figo, wow, c'è mai visto, un libro, vabbè, comunque, adesso, vi faccio vedere, in che anno è stato stampato, perché, cioè, qui c'è anche, l'intro, allora, lo leggete? del 42, del 42, questo libro, ha, eh, troppi anni, che ho stampato in Italia, e è, è, wow, cioè, qui c'è scritto, qua sopra, vedete, per concessione speciale della, mh, s, a, i, creazione Walt Disney, diritti riservati per tutti i paesi del mondo, proprietà letterale riservata, copyright by Walt Disney, c'è, del 42, del 42, cacchio, l'ho pagato 3 euro, qua, è, ok, è rovinato, perché, effettivamente, cioè, guardate, ha le pagine ingiallite, poi qui, è, rovinato da, non ho idea, che cosa, però, cioè, ragazzi, è una cosa stupenda, è una cosa stupenda, e dietro, no, dietro c'è, invece, questo, così, è bellissimo, ho guardato, dopo che l'ho acquistato, ho guardato su ebay, e c'erano due copie, ce n'era una, sparata a 90 euro, che dici, vabbè, ok, ci può anche stare, basta che sia perfetta, perché, insomma, cioè, visto l'anno, e poi ce n'era una, tipo, a 20 euro, circa, che quella, già, secondo me, è meglio, come, come, come cifro, poi qua, vedete che, un po' rovinato, però, cioè, chi se ne frega, nel senso, che chi ho, è del 42, è del 42, cioè, c'ha tipo, 42, ehm, quanto dove è stato, dove è stato, 92, 2002, 2012, 2012, c'ha 70, c'ha 77 anni, cioè, è vecchio, è vecchio, è vecchio, quanto il film, quasi, il film, ha tipo, 80 anni, più o meno, c'è, tipo, parliamone, penso che questo, qui, questo, penso che sia, o forse no, 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 penso che sia il più vecchio, che ho nella mia collezione, sì, perché io colleziono anche libri vintage, di Walt Disney, ne ho anche degli anni 80, degli anni 90, anche di nuovi, di quelli nuovi che escono adesso, io li prendo tutti, perché a me interessa comunque avere anche quelli moderni, però ne ho alcuni di vecchi, per esempio, beh, c'è stata, c'è stata una volta che ho avuto una fortuna sempre su questi libri usati, che però quello lì era veramente, cioè, tenuti da Dio, ero andata in una libreria qui a Trento, che è una libreria di libri usati, si chiama Rilego, dove vendono libri usati, cd e vinili, che avevo anche trovato il vinile di, come c'è, The Rocky Horror Picture Show, ma vabbè, ok, e, e praticamente, siccome lì avevo trovato alcuni libri Walt Disney vecchi, tipo degli anni 80, o anche più vecchi, gli ho chiesto al, al tipo, gli ho dato la mia email, gli ho detto, guarda, se per caso, ti arrivano, ti arrivano dei libri Walt Disney vintage, o comunque vecchi, così, mandami un'email, dimmi cosa sono, che poi vediamo se mi interessano o meno, allora, un giorno mi è arrivata sta email, dicendomi, guarda, faccio qua queste raccolte di libri, sono libri tipo di attività, anche di racconti, cose di sto genere, li possono interessare, e mi sono fatta dire i titoli, non ce li avevo, ho detto, bombom, sì, allora, sono andata lì in macchina, per fortuna, perché, erano praticamente due box, box, di quelli grandi, quelli tipo larghi, così, con dei libri grandi, non come questo qui, però belli grandi, erano belli grandi e grossi, così, ciascun libro, c'era la mamma, di questo, di questo ragazzo, e, mi faccio, sì, no, sono qua per ritirare questi libri qui, e, li faccio, ok, quant'è? Mi fa 12 euro, io, 12 euro a volume, fa, no, 12 euro a box, io, ok, va bene, allora, pago 12 euro, cioè 24 euro, me li carico in macchina, perché erano pesantissimi, infatti ho detto, meno male, io portavo la macchina, perché se no da lì, a casa, cioè, sarei morta, praticamente, e, e poi controllo, allora, adesso io non mi ricordo, eh, le date, mi sembra che uno fosse, tipo, risalente agli anni 50, o giù di lì, e, che quello lì, credo fosse una versione, tipo, unica stampa, perché era di un anniversario, di qualcosa, non mi ricordo cosa, del, forse di qualche parco Disney, o qualcosa del genere, e l'altro invece, erano, tipo, eh, una raccolta di racconti, dei film, e dei corti Disney, usciti in quegli anni, quello credo fosse stato, degli anni 70, o degli anni 60, vabbè, comunque, eh, le ho detto, per curiosità, vediamo quanto vengono, su, su ebay, non l'avessi mai fatto, allora, tutte e due, venivano, come un minimo, 80 euro, minimo, rovinati, un po' rovinati, e, fino a, boh, le avevo visti, 120 euro, 150, e io, bene, yeah, e viva i mercatini dell'usato, o i negozi dell'usato, perché, cioè, vi dico che se cercate, libri così, ehm, se cercate libri così, vi conviene prima, appunto, vedere, nei, nei mercatini dell'usato, nei negozi dell'usato, nelle librerie, dove hanno, libri usati, perché lì, spesso, spesso, vi dico che io ho trovato, delle chicche, veramente, roba molto vecchia, cioè, roba anche, degli anni 80, però, prime edizioni, ehm, cose che, non si trovano più, da nessuna parte, insomma, vabbè, comunque, direi che è anche, anche troppo lungo, questo video, come al solito, io parlo, 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 vabbè, comunque, ok, ecco, finito, alla prossima, ciao ciao!